Sandro Tognazzi presenta di una vecchia casa cinese Ciao, sto spiegando i miei problemi a mia madre Non ti preoccupare che sarò sempre vicino a te Non ti preoccupare che sarò sempre vicino a te Ho dei problemi che non sono facili da risolvere Channel Town, complesso di grattacieli e case Nostra figlia ha dei grossi problemi Che però non mi vuole spiegare bene quali sono Dalla finestra una foresta Tu stai piangendo perché ti voglio lasciare Gli do la borsa e la campagna alla porta Non ti preoccupare che tutto finirà bene Stai tranquilla e non ci pensare Stai tranquilla e non ci pensare